Bentornato su Gossip in the News. Il tema è molto complesso, ma quelle persone che abbiamo visto sono dei fantasmi e le persone che entrano illegalmente, purtroppo continueranno ad entrare, sono senza diritti e di conseguenza diventano spesso anche manodopera dalla microcrittura. Ma non devono entrare persone come quelle. Tu Alessandro sei un pragmatico, dovresti sapere che l'unica soluzione che noi abbiamo realistica nei prossimi anni è quella di aumentare i flussi regolari. Ma regolari, ma bisogna chiudere come stiamo facendo con grande fermezza chi arriva con gli sbarchi. E voi invece di andare a chiedere le punte contro l'Italia, dovete aiutarci. Cruciani e poi l'Avvocato Sedu, prego. Allora, io trovo incredibile che ci siano, l'hai già detto tu Paolo, ma lo voglio ribadire mettendoci anche un carico da 90, trovo incredibile che in alcune città ci siano delle zone che sono terra di nessuno. Allora, non possiamo solamente indignarci e basta. Cioè, chi lascia un sottopasso, come dici tu, chiuso a metà, ha un nome, un cognome, ci sono dei responsabili. È vero che in Italia è facile sfuggire alla responsabilità. Per cui non è vero, come diceva prima Ricci, che non ci sono i responsabili di questa cosa. Esistono dei responsabili che hanno fatto male il loro lavoro. Non so chi siano gli amministrativi, i politici, gli assessori, il sindaco, ma dovrebbero essere incriminati per concorso in stupro. Perché di questo si tratta. Se tu lasci un sottopassaggio libero a metà, e dunque terra di nessuno, in cui una persona si avventura là dentro per sbaglio, oppure può essere portata là dentro di nascosto, è stuprata, violentata, molestata, quello è un caso diverso naturalmente, ma anche quello non è protetto, perché se si sapesse, con dei cartelli enormi, con delle telecamere ben visibili, che magari ci sono le telecamere, non sarebbero andati a molestare la signora Asseriate. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è, io non riesco a capire come si faccia ancora a negare, abbiamo visto i cartelli, qui nessuno ce l'ha con gli immigrati. Cioè nessuno ce l'ha con gli immigrati in quanto immigrati. Qui, spesso, anche qui a Rete4, scusate, mi è cascato per la foga il telefono, anche qui a Rete4 veniamo accusati di essere razzisti, di fare trasmissioni contro gli immigrati. Nulla di più falso. Noi siamo a favore di un'immigrazione regolare in cui le persone si presentano ai confini con nomi, cognomi e con un mestiere e li abbracciamo come io abbraccio te ogni tanto. L'unica cosa, immigrazione regolare con i flussi, l'unica cosa insopportabile è un flusso incontrollato di persone senza nome e cognome e che spesso, non per colpa loro, anche per colpa loro, perché ci sono pure i delinquenti, ma ci sono pure quelli italiani, finiscono per fare quella roba lì. E non è vero che non sono gli immigrati, perché i dati parlano chiaro, non voglio ripetermi, l'ho fatto prima Belpietro, molti dei reati più odiosi di microcriminalità e altro vengono commessi purtroppo, ma non perché siano cattivi, da immigrati clandestini. Allora, Avvocato Sedi, prego. Non capisco perché la sinistra e le associazioni, eccetera, non lo vogliono ammettere. È come dire, facciamo entrare tutti, poi li regolarizziamo, dice Ricci, e no, impediamo alle persone di entrare. No, no, non ho detto questo. Più o meno l'hai detto. Io non ho detto questo. Ricci non l'ha detto. No, no, io ho detto che vanno aumentati i flussi irregolari. No, hai detto anche quando sono qui irregolare, quando sono qui senza arte né parte, bisognerebbe regolarizzarli. E più o meno, è come dire, venite. Di certo, di certo, di certo tenerli come fantasmi nelle nostre città non risolvi i problemi, anzi li aggravi.